Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e Ilvivio con la variante Divalico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 2 km in direzione La Spezia. Passiamo sulla FIPILI dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a La Strassigna in direzione Mare. Treni per un danno a un passaggio a livello tra le stazioni di Lucca e San Pietro a Vico e con vogli percorrenti la linea Lucca-Ulla potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, una città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!